siamo a monte del fiobesco lago di cei e vedremo la neve che ha fatto in questi giorni la cima becca qua a sinistra val dei dalderi e poi continuando si arriva in cima alta insieme alla mia cagnolina Superstar Merivin la mia merivin in mezzo alla neve alta è selvatica lei ma in mezzo alla neve si diverte un mondo fa molto freddo sotto zero e con queste immagini siamo alla fine del video